Al capitolo 66 del novellino possiamo leggere d'uno filosofo lo quale era chiamato Diogene. Il protagonista è questo Diogene di Sinope, vissuto tra il V e il IV secolo a.C., è nato appunto in questa città turca, colonia greca naturalmente, ed è curioso il fatto che egli morì lo stesso giorno in cui ispirò anche Alessandro Magno a Babilonia. Quindi sono vissuti nello stesso periodo, Alessandro Magno è vissuto nel IV secolo a.C., è morto nel 323 a.C. e lo stesso anno, lo stesso giorno, è morto appunto anche il nostro protagonista. E infatti non è un caso che i due personaggi che vi ho appena citato siano i protagonisti, i personaggi principali di questa brevissima narrazione, perché sono soltanto sette righe, quindi un racconto davvero stringato, ma ormai abbiamo imparato che all'interno del novellino ciò che conta non è l'approfondimento psicologico e non è nemmeno l'ambiente, bensì l'insegnamento morale, qualcosa che ci vuole veicolare. In questo caso torniamo quindi nell'età antica e ascolteremo un brevissimo dialogo tra questi due personaggi e ciò che conta è il messaggio davvero importante che ci trasmette il filosofo. Un filosofo particolare perché è stato uno dei fondatori della scuola cinica, questo termine essere cinico, cosa significa? Significa letteralmente dal greco cane, perché questi filosofi in maniera dispregiativa erano paragonati a dei cani, perché effettivamente vivevano una vita simile a quella dei cani, quindi una vita brutta, una vita molto particolare. Lo stesso Diogene di Sinope, per esempio, viveva all'interno di una botte, è quel famoso filosofo che poi fu visto vagare per la città con una lanterna di giorno e a chi gli avesse chiesto cosa cercasse, lui rispondeva cerco l'uomo, cerco l'uomo, ma quale uomo? Il cinico e quindi Diogene tentava di abbattere, di distruggere, quei valori che per la società erano importanti, ma che non lo erano invece per l'uomo, cioè la ricchezza, il potere e la gloria. Vivere una vita inseguendo queste false illusioni significa essere condannati all'infelicità, cioè l'uomo è veramente felice soltanto se vive una vita secondo natura. Ecco perché conduceva una vita di questo tipo, proprio perché voleva vivere il più possibile in armonia con la natura, seguendoci soltanto le pulsioni naturali. Bisogna cercare in tutti i modi di far emergere la nostra vera natura, assecondare i nostri bisogni naturali, le nostre pulsioni che non possiamo reprimere e soprattutto seguire la nostra natura umana, perché se cerchiamo di nasconderla o di reprimerla attraverso queste false convenzioni, attraverso le etichette sociali, le norme imposte dalle persone o semplicemente a causa del giudizio anche degli altri, non vivremo veramente la nostra vita ma la vita di qualcun altro ed è il motivo per cui saremo condannati ad un'eterna e costante infelicità. Quindi il cinico aveva proprio come primo obiettivo proprio quello di condurre una vita secondo natura e soprattutto insegnava a liberarsi da questi falsi desideri, da queste false ambizioni perché conducevano soltanto sulla via dell'infelicità e quindi erano vite sprecate in sostanza. I valori fondanti per i cinici e che insegnavano anche i loro adepti erano proprio quelli dell'autocontrollo e dell'autosufficienza, quindi la famosa autarchia, l'autosufficienza significa bastare a se stessi essere in grado cioè di non dipendere da ciò che ci circonda. Devo sì soddisfare i miei impulsi perché non posso morire di fame o di sete però non devo inseguire come direbbe Petrarca vane speranze e vani dolori perché poi alla fine avrei soltanto sprecato la mia vita, non sarei veramente felice ed è in quest'ottica che noi dobbiamo leggere il nostro piccolo brano. Fu è uno filosofo molto savio, quindi dotato di grande saggezza, era famosissimo, conosciuto da tutti lo quale aveva nome Diogene ed è proprio il nostro protagonista, Diogene di Sinope. Questo filosofo era un giorno bagnato in una troscia d'acqua, cioè un giorno si è bagnato in una pozzanghera quindi capita insomma di bagnarsi e quindi adesso si deve asciugare, deve rimediare a questo imprevisto e stavasi in una grotta al sole, quindi si ritira in una grotta, si stende sulle pietre e si lascia asciugare al sole. Alessandro di Macedonia, ecco l'altro personaggio principale, il grande conquistatore che praticamente ha sottomesso dalla Macedonia tutta l'Asia minore e poi tutta la maggior parte dell'Asia fino alla valle del fiume Indo, quindi arrivato fino a là, insomma fino a quelli che una volta erano considerati i confini del mondo. Ecco il nostro personaggio passava con grande cavalleria, quindi a un certo punto passa con tutti i suoi soldati. Vide questo filosofo, parlò e disse, quindi notate di nuovo sempre la dinamicità, De, uomo di misera vita, chiedimi ed arotti ciò che tu vorrai, quindi lo vede, è poverissimo, vive una vita da cani appunto, è vestito di stracci e quindi per il sovrano è inguardabile, evidentemente suscita anche compassione e quindi decide di offrire il suo aiuto, la propria generosità, chiedimi qualsiasi cosa e io te la esaudirò. Quindi qui diventa un po' il genio della lampada di Aladino, quel genio delle novelle orientali, dei racconti che ci arrivano appunto dalla cultura, dalla tradizione araba, che cercavano di soddisfare tutti i desideri degli uomini, i famosi tre desideri da esprimere. Ecco lui può chiedere qualsiasi cosa e l'insegnamento morale è già implicito. Cosa desideri sopra ogni altra cosa? Qual è il desiderio che brami di più al mondo? Cos'è che vorresti realizzare se potessi farlo in 448? E che cosa risponde invece il saggio? E il filosofo rispose, priegoti che mi ti lievi dal sole. Cioè ti chiedo cortesemente che tu ti tolga dal sole perché mi stai facendo ombra e non posso più asciugarmi. Cioè per sé lui non chiede nulla perché appunto basta a se stesso. Lui vive attraverso l'autocontrollo, l'autarchia continua e attraverso quel lavoro incessante di autocostruzione interiore attraverso il quale il saggio basta a se stesso. Ed è un po' tutto il lavoro che stiamo conducendo anche grazie alla lettura dell'epistole morale Sadelucilium di Seneca. L'abbiamo già detto più e più volte. Quindi lui dice priegoti che tu mi ti levi dal sole, cioè vattene via perché mi stai oscurando. Non chiede ricchezze, non chiede un posto a corte, un lavoro ben retribuito, una carica importante e non chiede nemmeno di essere conosciuto da tutti. Quindi non vuole neanche la gloria, vuole semplicemente asciugarsi in santa pace. Questa battuta di spirito, questa sentenza finale molto semplice però racchiude in sé un insegnamento morale davvero profondissimo, importantissimo. Io non desidero i beni materiali, le cose esteriori perché tutto passa in questa vita, noi siamo solo di passaggio ma nessuno mi potrà togliere quella ricchezza interiore che io ho accumulato e ho costruito da solo piano piano in quel lunghissimo iter ad sapientiam. E abbiamo già visto che non è affatto un lavoro semplice perché dobbiamo tutti i giorni lavorare su noi stessi, non possiamo pretendere che gli altri cambino se non siamo noi i primi a cambiare. Quindi non dobbiamo stupirci se le cose continuano ad andare sempre allo stesso modo. E non è un caso che i due personaggi in questione che vengono presentati siano proprio Diogene e Alessandro perché la stessa scena, lo stesso discorso lo ritrovate anche nelle vite parallele di Plutarco nella vita di Alessandro Magno naturalmente, anche lì c'è lo stesso identico episodio ed è interessante perché Plutarco aggiunge un'altra cosa. Quando Alessandro se ne va insieme al suo esercito che cosa succede? Che tutti gli altri iniziano a commentare la scena, insomma le sue parole, quindi anche a disprezzarlo e invece che cosa succede? Che mentre loro lo deridono, lo scherniscono, cosa dice Alessandro? Perché inizia a pensare, a meditare alla sua risposta e dice a tutti gli altri se non fossi Alessandro io vorrei essere Diogene perché ha capito il suo messaggio. Certo qui non è riportato perché l'episodio è molto famoso e quindi il novellino ancora una volta proprio per questa grande attenzione nei confronti delle belle valentie ma anche dei bei risposi decide di veicolarlo, di trasmetterlo a qualunque lettore o ascoltatore avesse avuto la possibilità di sentire queste storie. Probabilmente i due si conobbero o si incontrarono durante i giochi istmici che venivano gestiti e curati da Corinto e infatti si svolgevano in una foresta presso l'istmo di Corinto e istituiti nel VI secolo avanti Cristo e prevedevano tutta una serie di giochi, di gare ginniche, ipiche e di lotta. In occasione di questi giochi Diogene parlò appunto al popolo, parlò a grandi folle, insomma a tutti coloro che stavano ad ascoltarlo, quindi è probabile ecco un loro incontro che qui non viene ovviamente citato, non ci dice nulla dell'ambiente, insomma del posto in cui si trovino, però ecco di fatto dal punto di vista storico è possibile anche che si siano scambiati delle parole, certo qui viene trasmesso proprio per veicolare un insegnamento ben preciso. Come sempre noi ci vediamo alla prossima lezione, a presto!